Domenica 4 novembre si è svolta la seconda giornata dell'evento Il Palazzo del Gusto, progettonato con l'intento di promuovere le eccellenze dell'enogastronomia dell'imprenditoria calabrese. Dopo la vasta partecipazione alla prima giornata ha avuto luogo la seconda parte della manifestazione, con convegni che hanno interessato l'aspetto tecnico del progetto come la tutela ambientale e alimentare, il laboratorio sulle erbe e le spezie, una degustazione da parte delle aziende ospiti all'evento e infine la seconda parte dello show cooking, con prestazioni di alto livello nel preparare le prelibatezze calabresi. Parleremo nel dettaglio di come costruire l'alimentazione nelle nostre giornate, quindi la suddivisione nei cinque passi principali. Andremo a parlare delle scelte alimentari, come ad oggi vengono fatte dalle persone. Andremo a raccontare stili di vita che abbiamo ad oggi e come andranno a modificare. Oltre a questo avremo una relazione sul fatto della sicurezza alimentare delle aziende che producono prodotti alimentari effettivamente, quindi l'aspetto microbiologico e salutistico del prodotto finale. Infine avremo in dettaglio la descrizione di che cosa significa alimentazione sostenibile, cosa significa alimentazione sostenibile, l'impatto che hanno le nostre scelte alimentari sull'ambiente circostante. Quindi andremo un po' a chiarire un po' magari di dubbi che si possono creare ad oggi, che spesso sentiamo parlare di alimentazione sostenibile, ma effettivamente non ne sappiamo il significato. Allora questo è un incontro molto importante perché finalmente possiamo parlare a più voci di sostenibilità. Io sono il presidente dell'associazione Biosfera, noi abbiamo accolto con grande entusiasmo l'invito della Proloquo di Roccella a partecipare a questa manifestazione perché è fondamentale e importante parlare di sostenibilità alimentare, sostenibilità ambientale e di dieta mediterranea. E questo possiamo farlo non soltanto discutendo ai tavoli, ma facendo toccare con mano tutte quelle che sono le realtà, le eccellenze di questo territorio che propongono dei prodotti che rispettano l'ambiente e il territorio. Ecco perché quindi sostenibilità, ma anche chilometro zero, proprio perché noi possiamo trovare i migliori prodotti senza doverci muovere, o meglio ancora, senza dover andare ad acquistare dei prodotti che provengono da lontano, ma bensì del nostro territorio.